Nidi meno cari per le famiglie residenti a Prato, grazie ai contributi comunali, regionali e statali e dell'Inps. È arrivato il bonus nazionale che si aggiunge a quelli comunali, che si aggiungono a quelli regionali. Per alcune famiglie sarà sostanzialmente l'azzeramento della retta del nido, per le famiglie anche più abbienti comunque va da un abbattimento che va intorno a oltre 1.300 euro l'anno. Insomma sono veramente degli abbattimenti importanti, a seconda della fascia ISEE si passa da circa 240 euro il mese alle fasce più basso, ai 135 euro al mese in meno alle fasce più alte. Insomma è veramente un consistente passo avanti, alcune famiglie arriveranno a quota zero. Le iscrizioni per l'anno scolastico 2020-2021 ai nidi comunali, ai privati e agli accreditati, per i bambini nati tra il 1 gennaio 2018 e il 31 agosto 2019 sono già aperte. Tra le agevolazioni previste anche il bonus nido erogato dall'Inps, il cui importo varia dai 3 ai 1.500 euro il rapporto all'ISEE. Le modalità per l'ottenimento saranno pubblicate nelle prossime settimane sul sito dell'Istituto Nazionale per la Prevenzione Sociale. La somma di tutte le agevolazioni previste permetterà di ridurre considerevolmente il costo sostenuto dalle famiglie per la frequenza del nido, fino ad azzerarlo completamente per i nuclei con valori ISEE più bassi. Grazie. Grazie a tutti.